Riconoscere la vigilanza sul lavoro è il ruolo che merita, come ricordato dal Presidente della Repubblica. Questo chiedono gli ispettori del lavoro e la rappresentanza sindacale unitaria di Lecce, a maggioranza, aderisce allo sciopero del 30 ottobre del personale in forza all'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tantissime le motivazioni alla base dello sciopero con manifestazioni ai piedi della Prefettura di Lecce, come in tutte le città d'Italia. Mancato riconoscimento degli arretrati della perequazione, riconoscimento di importi adeguati del Fondo di Risorse Decentrate dell'Agenzia, riconoscimento di aumenti degli importi destinati all'incentivazione dell'attività di vigilanza, riconoscimento di autonomia organizzativa e finanziaria dell'INL, utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni combinate in materia di salute e sicurezza in favore di tutto il personale. A queste rivendicazioni aggiungono quello che definiscono l'assordante silenzio del vertice dell'amministrazione riguardo all'autentica agogna mediatica che stanno subendo i colleghi dell'ITL di Bari per i fatti noti riguardanti gli accertamenti sul personale medico-sanitario. Per tutto questo, le RSU-TIL, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce, a maggioranza esortano il personale ad aderire allo sciopero. Nei giorni scorsi la lettera è indirizzata alla presidente Meloni, in cui si sottolineano le criticità del lavoro svolto. Segnaliamo in particolare che, nonostante l'avvio di un importante reclutamento di personale, si registrano ancora centinaia di posti scoperti, in quanto l'INL si dimostra ente meno appetibile e concorrenziale rispetto agli altri. Evidenziamo poi una sproporzione, dicono, tra le competenze e le responsabilità richiesta al personale e la retribuzione corrisposta. Le lavoratrici e i lavoratori dell'Ispettorato, concludono, sono stufi di vivere nel paradosso di dover tutelare gli altri lavoratori senza essere tutelati loro.